Ciao a tutti e benvenuti su Fabio Silver News. Io sono Fabio Silver e oggi abbiamo una storia davvero interessante e un po' misteriosa da raccontare. Parleremo di Fleximan, il giustiziere degli autovelox veneti, che è stato finalmente smascherato. Se siete curiosi di scoprire chi si nasconde dietro questo nome e cosa ha fatto per diventare così famoso, continuate a guardare. Ma prima di entrare nel vivo della storia, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like se vi piacciono i nostri contenuti e a commentare qui sotto con le vostre opinioni su Fleximan. Pensate che sia un eroe o un criminale? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. E ora andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa incredibile vicenda. Fleximan, il misterioso sabotatore degli autovelox veneti, è stato finalmente identificato. Si tratta di Enrico Mantuan, un uomo di 42 anni residente nel Polesine, ma originario di Padova. La sua attività consisteva nel danneggiare gli autovelox, protestando contro le multe per eccesso di velocità e contestando la posizione in cui gli apparecchi venivano installati. La sua fama è cresciuta sui social network, dove gli utenti si sono divisi tra sostenitori ma che lo vedono come un eroe e critici che lo condannano duramente. Le gesta di Fleximan hanno ispirato atti di imitazione in altre regioni italiane, con autovelox distrutti in Piemonte, Lombardia, Puglia e soprattutto nella provincia di Padova. Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che gli autovelox devono ottenere una doppia approvazione, autorizzazione e omologazione, sollevando dubbi sull'efficacia di questi dispositivi. Resta da vedere se Fleximan sarà considerato un boe o un criminale, ma il suo nome sarà certamente ricorto nel Veneto per molto tempo. E questo è tutto per oggi, amici di Fabio Silver News. Abbiamo scoperto chi è davvero Fleximan e perché ha scatenato tanto clamore. È stato affascinante esplorare le motivazioni e le conseguenze delle sue azioni. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti su storie incredibili come questa. E soprattutto, scrivete nei commenti cosa ne pensate. Fleximan è un eroe che combatte contro le ingiustizie o un criminale che va fermato? La vostra opinione è importante. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video su Fabio Silver News. Ciao a tutti!